bentornati tgtg estate oggi su tutti i mezzi di comunicazione dominano le notizie dall'unione europea lo facevano anche ieri a dire il vero è un'estate questa su cui sventola tanto la bandiera dell'unione europea e allora noi ne parleremo con il nostro ospite in studio e responsabile dei media per il parlamento europeo da parte dell'italia benvenuto maurizio molinari grazie e allora prima di incominciare di lanciare come sempre i titoli vi ricordo che voi potete fare le domande qui in studio lo potete fare tramite twitter tramite facebook ma io vi consiglio sempre di farlo su con il nostro numero di telefono su whatsapp il numero è il 335 69 33 132 mandate i vostri messaggi li ascolteremo insieme e adesso cominciamo veramente andiamo ad ascoltare i titoli dei telegiornali e poi torniamo qui in studio mattarella incontra i giornalisti per superare le tensioni serve un clima di collaborazione il quirinale è arbitro non compie scelte politiche fuori dall'europa non c'è futuro ancora una strage nelle mediterranee o due barconi con 300 migranti partiti da comsa circa 100 chilometri da tripoli si sono capovolti davanti alle coste della libia lo riferisce una portavoce dell'agenzia onu per i rifugiati i morti sarebbero oltre 150 oltre 100 tratti in salvo nuova tragedia sulle rotte della speranza due barconi di migranti affondano a largo delle coste libiche circa 150 persone salvate ma almeno altrettante sarebbero morti è l'ennesimo naufragio a largo della libia e chiaramente nei primi titoli dei telegiornali ma anche su quelli online ve li faccio vedere sono qui gli aggiornamenti qui siamo su repubblica l'allarme dell'un hcr naufragio a largo della libia oltre 100 persone disperse ecco quello della migrazione maurizio molinari è un tema veramente centrale forse oggi più che mai lo è anche all'interno della nuova composizione dei palazzi dell'unione europea ma si è uno dei primi temi che è stato citato forse il primo il più importante che è stato citato sia dal neo eletto presidente del parlamento europeo david sassoli sia dalla presidente della futura presidente della commissione europea ursula von der leyen quindi è un tema assolutamente importante per l'europa per le istituzioni europee parlamento e commissione anche nella scorsa legislatura hanno agito hanno fatto delle proposte gli stati membri devono seguire devono cercare di decidere di essere più uniti di trovare una posizione negoziale perché se non si trova una posizione negoziale senza l'aiuto degli stati membri commissione e parlamento possono fare ben poco ecco poi abbiamo sentito mattarella dice bisogna rimanere all'interno dell'unione europea importante farlo eppure c'è chi non lo vuole fare naturalmente stiamo parlando del regno unito boris johnson il neo premier appena insendiato a downing street ha proprio detto lo cito testuale il 31 ottobre siamo fuori dall'unione europea e l'ha fatto naturalmente dopo avere preso l'incarico ufficialmente dalla monarca la regina elisabetta seconda e allora noi vi vogliamo fare vedere innanzitutto questo piccolo insediamento guardiamo guardiamo Insediamento down in street Maurizio vuol dire anche presentazione della nuova squadra di governo naturalmente, quindi è stata presentata la nuova squadra di governo che lavorerà insieme a Boris Johnson molto larga dal punto di vista etnico Maurizio un po' stretta da quello ideologico eccoli qui, li vediamo insieme, quelli principali naturalmente abbiamo Priti Patel poi la pronuncia, Maurizio mi aiuterai tu eventualmente degli affari interni invece c'è Saeed Yavid al Ministero dell'Economia e Dominique Raab agli affari esteri sono tutti esponenti estremamente conservatori dell'estrema destra e la cosa che sicuramente hanno in comune è di essere profondamente euroscettici Maurizio Molinari, cosa cambierà in Europa con questa guida al Regno Unito? Il Parlamento Europeo che ha un gruppo di lavoro sulla Brexit si è riunito proprio mentre Boris Johnson poco prima che Boris Johnson si insediasse come Primo Ministro gli ha fatto l'imbocca al lupo e ha detto che, ha ribadito la posizione del Parlamento Europeo che un'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza un accordo, quindi il cosiddetto no deal non converrebbe prima di tutto al Regno Unito stesso sarebbe il Regno Unito stesso a perderci e poi ovviamente neanche all'Unione Europea comunque la priorità del Parlamento Europeo è salvaguardare i diritti dei cittadini europei che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono in Unione Europea succeda quel che succeda poi c'è tutto il discorso del confine Nord fra Nord Irlanda e Irlanda del Nord c'è il discorso della libera circolazione ci sono tanti altri discorsi che sono priorità che fanno parte dell'accordo che l'Unione Europea aveva negoziato con Theresa May e che la Camera dei Comuni Britannica non ha votato queste sono le priorità per il Parlamento Europeo per le istituzioni europee gli inglesi e i britannici devono dire cosa vogliono fare e Boris Johnson ha già detto tra le altre cose di essere pronto per il no deal per un eventuale no deal Maurizio ci spieghi tu che cosa comporterebbe per il nostro paese anche per l'Italia un'eventuale uscita, una hard Brexit come la chiamano dall'Unione Europea Allora detto che le istituzioni europee hanno posto in essere tutta una serie di misure che dovrebbero cercare di limitare i possibili danni causati da un'uscita senza accordo del Regno Unito quindi per esempio hanno posto in essere delle misure che permetteranno ai voli di continuare a volare perché c'era anche quel problema lì cioè se un paese esce dall'Unione Europea a un certo punto, dalla notte al giorno cioè non possono più volare le aerei fra quel paese e l'Unione Europea quindi problemi di pesca per esempio varie misure, le istituzioni europee hanno preso varie misure per limitare l'impatto di un possibile no deal però detto questo i cittadini devono secondo le istituzioni europee essere tutelati, i cittadini europei che sono nel Regno Unito i cittadini britannici che sono nell'Unione Europea ma per esempio se un italiano ipotesi dopo il 31 ottobre la Gran Bretagna e il Regno Unito uscisse dall'Unione Europea un italiano volesse andare a lavorare in Gran Bretagna perché non trova lavoro in Italia sarebbe molto più difficile farlo E certo e non saprebbe neanche in che modo cioè fino adesso non è chiaro Esatto, ci sarebbe molta meno chiarezza e comunque sarebbe veramente molto difficile per un datore di lavoro britannico impiegare un cittadino europeo posto che chi è già lì secondo l'Unione Europea deve continuare a godere degli stessi diritti questo anche in caso di no deal però anche su questo insomma c'è poca chiarezza è ovvio che un no deal vorrebbe dire tanta confusione Questo è chiarissimo Maurizio, mi dicono dalla Regia che è arrivato un messaggio per te lo ascoltiamo insieme Salve, buonasera sono Annalisa da Livorno e desideravo sapere alla guida del Parlamento Europeo c'è un italiano eppure pare che tra tutti i nuovi commissari non ce ne sarà nemmeno uno italiano che peso abbiamo in Europa? Prego Maurizio Un commissario italiano ci sarà bisognerà vedere chi sarà e che portafoglio avrà ma l'Italia ha diritto a un commissario e lo avrà e il peso che abbiamo in Europa dipende anche molto da come si muoverà il governo quindi intanto abbiamo un presidente del Parlamento Europeo che è un italiano dopo un altro italiano dopo Antonio Tajani abbiamo David Sassoli quindi che tutelerà senz'altro gli interessi dell'Italia sia dal punto di vista della scelta del commissario che delle scelte in Consiglio Europeo o nel Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea quindi quando si riuniscono i capi di Stato e di Governo o quando si riuniscono i ministri per esempio i ministri dell'Interno i ministri della Giustizia se l'Italia deciderà di giocare e di essere in Serie A come dice il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli se sarà in Serie A e giocherà a trovare accordi con gli altri partner europei conteremo se deciderà di farsi da parte di essere diciamo in Serie B allora conteremo un po' di meno ma il commissario ce l'avremo sicuramente molto chiaro Maurizio Molinari continuiamo a andare in fondo alle notizie e lanciamo il nostro secondo giro di titoli quando si dice temperature record in genere lo si fa con i classici titoli del Sol Leone ma oggi è il giorno più caldo della storia d'Europa a Parigi 42,2 il livello più alto dal 1873 ma record assoluti di sempre in Belgio in Olanda, in Germania picchi anche in Gran Bretagna gli esperti dicono che negli ultimi 17 anni si sono concentrati l'estate più calda dell'ultimo mezzo millennio nuova prova del cambiamento climatico in atto noi non lo possiamo gestire la drammatica richiesta di aiuto di una coppia di genitori ai servizi sociali hanno un figlio autistico di 11 anni e dicono da soli non ce la facciamo più Maurizio, tu oltre a ricoprire un ruolo importante all'interno del Parlamento Europeo sei anche non vedente ecco, in Unione Europea a che punto siamo con la disabilità? L'Unione Europea è all'avanguardia per quanto riguarda gli standard di accesso a beni e servizi per le persone con disabilità ricordo che proprio poco prima delle elezioni europee è stato approvato quello che si chiama l'atto europeo per l'accessibilità è una direttiva gli stati membri hanno tre anni per recepirla e sei anni per adattare i loro standard che prevede accessi un miglior accesso ai beni e ai servizi tutti una serie di beni e servizi come per esempio possono essere biglietterie automatiche bancomat, smartphone accesso ai libri trasporti, eccetera per le persone con disabilità è un atto diciamo che è molto vasto starà agli stati membri vedere come verrà recepito e quanto insomma hanno sei anni di tempo per cominciare chi già non lo fa a migliorare gli standard l'Unione Europea anche anche veramente uno dei forse l'area nel mondo in cui le persone con disabilità sono più integrate ovviamente a macchia di lopardo nel senso che ci sono abbiamo sentito questo esempio se fosse vero io adesso non so la situazione non conosco la situazione ma sarebbe veramente molto grave quello dell'autismo sì questo esempio di questa famiglia lasciata sola oppure che non ha voluto accettare io adesso non veramente commentare queste cose è sempre molto difficile però devo dire che trovare uno spazio al mondo così grande come in cui diciamo le persone con disabilità godono di diritti così come lo fanno all'interno dell'Unione Europea è difficile insomma voglio dire pensate alla Russia alla Cina agli stessi Stati Uniti dove comunque i diritti sono meno diffusi tutelati certo magari in alcune parti anche molto tutelati ma meno diffusi ci sono delle aree in cui sono meno diffusi è ovvio anche alcuni stati membri dell'Unione Europea hanno problemi per quanto riguarda garantire pieni diritti alle persone con disabilità ricordiamo un'altra cosa che le persone con disabilità nell'Unione Europea sono oltre 80 milioni e con l'invecchiamento della popolazione tutte le cose che si fanno a vantaggio delle persone con disabilità sono cose che vengono anche che andranno anche a vantaggio del sempre maggior numero di anziani che ci sono in Unione Europea certo e invece noi adesso vogliamo andare a vedere come siamo messi in Italia o perlomeno ci aggiorniamo noi siamo andati a cercare un po' di risposte sulle coste o meglio sulle spiagge del litorale romagnolo andiamo a vedere da sempre la spiaggia di Rimini ha scelto di abbattere tutte le barriere architettoniche per poter accogliere tutte le persone anche con disabilità che vengono in vacanza a Rimini da noi l'inclusione è sempre stata una delle parole preferite il disabile può arrivare dalla strada fino a 10 metri dal mare con una pedana con la carosella è una cosa bellissima abbiamo poi delle sedie attrezzate per andare in mare o camminare sulla battigia abbiamo anche lettini rialzati per favorire il passaggio dalla sedia al lettino stesso insomma cerchiamo di favorire al 100% la spiaggia è proprio accessibile tutti gli stabilimenti di Rimini sono autismo friendly proprio per dare la possibilità alle famiglie che hanno bambini autistici di godersi la loro vacanza abbiamo delle tabelle braille dove gli ipovedenti possono utilizzare i servizi che ci sono all'interno dello stabilimento balneare qui al bagno 27 abbiamo deciso di favorire l'inclusione lavorativa di ragazzi con specialità varie ragazzi speciali in tutti i sensi buongiorno Giorgio ciao buongiorno a te per me è molto bello perché appena arrivo mi accolgono come un babbo come uno di loro sono molta ragazza assessore poi si si diverte si siamo una bella squadra mi trovo molto bene a parte la mattina svegliarsi presto ma Maurizio Molina è esattamente quello che un po' accennavi tu ma io adesso ti porto a osservare insieme ai nostri telespettatori la foto del giorno io te la descrivo Maurizio perché passiamo a un altro argomento che è quello del caldo torrido torridissimo che sta coinvolgendo non solo l'Italia del tutto anomalo ma anche i paesi dell'Unione Europea perché la Francia del nord la Germania del nord l'Inghilterra del nord hanno delle temperature assurde quella che abbiamo scelto è proprio in Inghilterra è scattata proprio nella campagna inglese con la tipica basilica romanica alle spalle e diverse persone si sono buttate direttamente nel fiume cosa che assolutamente non si dovrebbe fare e assolutamente proibito dalle autorità britanniche però disperate troppo caldo e quindi non hanno avuto scelta le politiche ambientali Maurizio sono al centro insomma l'abbiamo visto anche alle ultime elezioni insomma i verdi hanno avuto volti molto alti anche perché le politiche ambientali sono molto urgenti sì e sia il Parlamento che la Commissione sono impegnati a ridurre le emissioni del 50% entro il 2050 insomma per chi ancora dubita degli effetti del cambiamento climatico questi giorni sono forse qualcosa una lezione da imparare ricordo che comunque oggi la Commissione Europea ha annunciato lo stanziamento di aiuti proprio per i paesi colpiti dalla siccità e poi ti voglio portare anche a commentare la buona notizia perché quella di oggi è proprio una buona notizia e ci fa andare sempre ci fa rimanere a Bruxelles l'Europa allunga a dieci giorni il congedo di paternità la notizia arriva da avvenire tre anni agli stati membri per recepirlo anche questo una buona notizia sì è una norma che è stata approvata ad aprile prima delle elezioni e penso sia una buona notizia responsabilizza i padri dà la possibilità ai padri di spendere più tempo con i loro figli se la madre vuole prendere tutta la maternità due mesi sono non trasferibili quindi li deve prendere l'altro genitore quindi anche insomma va incontro alle famiglie moderne direi insomma dove anche il padre prende l'impegno di crescere i propri figli insomma in passo diciamo nella direzione giusta ecco di chi aumentiamolo così grazie davvero a Maurizio Molinari del Parlamento Europeo per essere stato con noi grazie davvero grazie davvero e se noi tornassimo al futuro e lo vogliamo proprio fare questa sera perché ci ha provato Frankie Zapata con la sua flyboard ha tentato di traversare la manica ma non ce l'ha fatta si è fatto un tuffo nell'acqua ma pensate ci riuscivano invece all'inizio del secolo scorso nei primi del 1900 era lui Beriot un pioniere dell'aviazione francese il primo uomo con il suo mezzo ad essere riuscito ad attraversare la manica e noi allora a queste persone dedichiamo il nostro dulcis in fundo grazie davvero per averci scelto ci vediamo domani